andrea è partito il video è così fermo fermo ferma vai parti 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 andrea ciao a tutti volevo dirvi che la bottiglia viaggiatrice ce la puoi fare andrea ha una caratteristica sì sì che caratteristica è che se tu no c'erano i cani che vai scanner di qua ok c'è una playlist e vedere scusa scanneria vai vai scannerizza così facciamo vedere che cosa succede ma io ti tengo fermo qua scannerizza perfetto clicca lo so fare io che sono boomer quindi lo sai fare anche tu no sei stanco è tardi devi andare a dormire sono le 9 di una cosa vai fammi vedere se parte sta playlist parte no non farmi vedere ma come non parte sì guardate la cosa sì ma falla vedere è bella è facciamo partire una delle canzoni bella perché non parte non parte niente è è partita ovviamente non sono pare piccoli ma sì vabbè ma fammi sentire scusa eh questa è la canzone preferita di andrea no non è vero no no ma ragazzi il libro è per i bambini di cinque sette anni ciao a tutti